Si può rischiare di morire a causa di una via d'accesso ostruita dal parcheggio selvaggio di motorini e biciclette? La risposta purtroppo è sì. Iafano, nella pista ciclabile all'altezza della spiaggia dei Fiori, sabato scorso è accaduto di nuovo. Erano le 17.30 quando al 118 è arrivata una richiesta di aiuto per soccorrere una donna diabetica che si è sentita male in spiaggia. Il codice assegnato all'intervento era rosso, di massima urgenza, e quindi il tempo di intervento doveva essere rapidissimo, insomma non c'era un istante da perdere. L'ambulanza è partita dall'ospedale Santa Croce di Fano a sirene accese, ma quando ha tentato di arrivare nel punto più vicino per poter prestare il primo intervento, i sanitari si sono dovuti arrendere di fronte a una selva di biciclette e motorini parcheggiati all'aria infusa su ambo i lati dell'unica via d'accesso all'arenile. Ma intanto ad ogni minuto che passava la vita di quella persona, una signora residente a Fano era sempre più a rischio, senza immaginare anche il senso di rabbia e di impotenza dei sanitari del 118, così come quella dei familiari o delle persone che hanno richiesto aiuto. Per fortuna la donna si è ripresa in poco tempo ed ora sta bene. Resta però il problema che non è soltanto di chi parcheggia all'aria infusa il proprio mezzo di trasporto, ignorando i disagi e il pericolo che tale azione può provocare, ma è di tutti che potenzialmente potrebbero trovarsi nella stessa situazione di bisogno. Questa mattina ci siamo recati nel posto in cui i veicoli sabato scorso hanno struito il passaggio. Anche oggi la situazione come potete vedere è la stessa, ci sono scooter e biciclette parcheggiate sia da un lato che dall'altro. Questo significa che se ci dovesse essere un'emergenza un'ambulanza farebbe difficoltà a passare. Dopo l'articolo pubblicato ieri sul nostro sito occhioallanotizia.it si è accesa una polemica in merito alla vicenda. C'è chi attribuisce la responsabilità ai vigili urbani, chi al comune e chi al buonsenso di cittadini e turisti. In diversi poi segnalano l'assenza di aree di sossa sul lungomare dedicate ai mezzi a due ruote. Ma guardate questo parcheggio, adiacente al punto in cui l'ambulanza è rimasta bloccata. Il cartello indica la sosta di bici e scooter, ma in realtà a parcheggiarci sono sempre le autovetture. Questa mattina inoltre abbiamo notato che due cartelli posto lungo la ciclabile sono spariti. Fino a ieri in questo palo, così come nell'altro che è a 10 metri di distanza, c'era un segnale, un cartello con la possibilità di parcheggiare biciclette in questa strada. Oggi non c'è più. Queste cose, insomma, sono l'occhi di tutti. L'emergenza estiva deve essere lasciata soprattutto alle forze dell'ordine e quelle di sicurezza. C'è un cartello, c'è un cartello. Anzi, sono stati tolti addirittura. L'altra volta c'erano, l'altra volta c'erano. E sono stati anche tolti. Boh, non lo so. I fanesi, vuol dire che a qualche fanese piace questa situazione. Di certo è auspicabile che vengano installati dei segnali di divieto su tutto il muro di cinta della ferrovia, in modo da segnalare in maniera chiara che non si possono parcheggiare le biciclette e i motorini sulla ciclabile e garantire così ai mezzi di soccorso di transitare senza dover perdere i minuti preziosi per salvare la vita altrui. Ad assicurare che verranno presi i provvedimenti il vice sindaco, nonché assessore alla mobilità urbana, Stefano Marchegiani. Dunque, allora lì la situazione è la seguente, dove si è verificato questo intralcio per la Croce Rossa. Esiste un divieto di transito e c'è ovviamente il divieto per qualsiasi mezzo di parcheggiare su una pista ciclabile. Se questo non fosse chiaro, come mi è sembrato, adesso vedremo di mettere dei cartelli ancora più espliciti. Però si sappia che in una zona dove c'è divieto di transito, ammesso che sia consentito di portare a mano il ciclomotore o la bicicletta, cosa che io reputo dubbia, non si può assolutamente poi parcheggiarlo su una pista ciclabile dove è fatto assoluto divieto di mettere in sosta dei veicoli. Quindi questo intanto per educazione civica e conoscenza del codice della strada in cui guida soprattutto quei mezzi. Dopodiché adesso faremo quello che serve per rendere più esplicito ancora questo divieto in essere perché la cosa non si deve ripetere. Questo significa che interverranno i vigili urbani? Beh, interverranno sì, ma in genere loro vanno a vedere, poi c'è il momento in cui non c'è il controllo e si addensano lì i mezzi e capitano inconvenienti che non devono capitare perché su una pista ciclabile non si deve parcheggiare. Io non vedo mai un vigile, mio figlio è handicappato, trovo sempre il parcheggio occupato da gente che... Quindi ci sono diversi problemi qui? Io non ho visto fino adesso due mesi, quasi, non ho visto mai un vigile girato qua. Quindi troppi parcheggi abusivi? Esatto, non si passa neanche di biciclette, multiciclette, scudo, non si capisce niente.